Ho scelto Milano perché era la città che nel 1961 nel mio pensiero era quella che mi avrebbe dato più possibilità di lavoro e di conoscenza. Bella! Infatti il mio lavoro è nato a Milano perché non avrei potuto farlo solo a Roma. Milano era più comodo, mia sorella abitava qui, io sono andata a vivere da mia sorella e ho cominciato un lavoro che non era quello che ho fatto poi dopo, ma ne ho fatti tanti. Nebbiosa! E quindi Milano mi ha dato tantissimo. Io ho scelto Milano. Ciao!